Grazie per aver partecipato agli esami di emissione del liceo di arte. C'è la cosa! A New York esiste una scuola dove ogni sogno è possibile. Benvenuti al liceo di arte e spettacolo di New York. Forza ragazzi prepararsi e chiedi scena. A Milano il sogno continua. Devi prendere sul serio questo lavoro, è l'unica cosa che conta. Questa storia della band non funzionerà mai. Funzionerà! Se non cambi atteggiamento verrai spunso. Miss Bell vuole che io ti alleni? Certo, aiutiamo il povero negro! Dicono che ti insegnano a diventare famoso, ma poi non ti fanno fare neanche l'ambizione. Eccoci al traguardo finale. Ti mancherete tutti tantissimo. Dall'indimenticabile Finn Coulter vincitore di due premio Oscar, Fane, il musical. A Milano dal 31 marzo al 1 maggio al Barclays Teatro Nazionale. Prevendite Ticket One.